Benvenuta tutta a tutti in questo video, perdonate la cera, ma sono raffreddatissima, ho il naso chiuso, non respiro, ho mal di gola, veramente, cioè, verificante, è una giornata devastante. Sto facendo questo video nella pausa di lavoro, sarei dovuta andare in palestra, ma appunto non stando bene, ho preferito non andare. E quindi, prima di entrare a lavoro, vi voglio girare questo video, vi voglio mostrare un prodottino che mi sta piacendo tantissimo e che vi consiglio, ed è la crema multivitaminica A, C ed E della Fito Relax, ed è questo latte corpo vitaminico, ed è un preparato cosmetico multivitaminico per pelli secche e stressate. E dato che io ho la pelle del viso mista grassa, ma la pelle del corpo, specialmente delle gambe, è secchissima, ho bisogno comunque di una crema molto molto idratante. L'avevo acquistata questa, se non mi ricordo male, da Acqua e Sapone, e il costo, non me lo ricordo, mi sembra sui 5 euro, ma non mi ricordo comunque, la Fito Relax ha dei prodotti ottimi. Allora, vi leggo quello che c'è scritto, allora, dai laboratori Fito Relax nasce la prima linea multivitaminica, preparati i cosmetici a base di succhi freschi di arancia, crota e limone, che apportano 3 vitamine fondamentali per il benessere e la bellezza della pelle, A, C ed E. Utilizziamo succhi freschi ottenuti tramite un processo di centrifugazione che mantiene alterate le vitamine e le rende risponibili per la pelle. I cosmetici multivitaminici Fito Relax sono indicati alle pelli spente, stressate e mature, aiutano a rafforzare la naturale funzione di barriera della pelle per un aspetto luminoso e radioso. Dice appunto che ha un'emulsione morbida e reggiera che ci ha da massaggiare, si fonde perfettamente con la pelle assicurando istantaneo benessere. Questa formula è la base di preziosi oli vegetali, arricchita dal pool di multivitamine A, C ed E, per aiutare la pelle a ritrovare la sua naturale luminosità e morbidezza al tatto. Ha un pao di 6 mesi ed è appunto made in Italy. Che dire di questa crema? In effetti è molto morbida, veramente vellutata, ma l'ha sentita allo stesso tempo molto corposa, molto nutriente, molto ricca. E infatti devo dire la verità che ne basta pochissimo. E il fatto che ha il dosatore a pompetta è molto utile, molto comodo perché basta che voi date una pusciata e con quella pusciata, come dico io, praticamente già fate tutto un braccio o quasi tutta una gamba, perché è veramente molto molto ricca e corposa. Mi piace tantissimo questo latte corpo vitaminico appunto perché mi idrata la pelle, ma se salve in fretta non unge e soprattutto mi rimane idratata e morbida per due giorni. Io, devo dire la verità, sono stupita perché in genere devo passare la crema tutti i giorni. Invece da quando utilizzo questa, assolutamente la posso dare ogni due giorni perché è talmente ricca, talmente nutriente, che mi va a nutrire la pelle per 48 ore. Perlomeno su di me è così e infatti mi trovo benissimo. È un prodotto che mi piace tantissimo. La profumazione non è tanto accentuata. Ora vi volevo far vedere come è la consistenza. L'ho messa proprio poca. Vedete che è praticamente come un burro, sembra un burro. In realtà è una crema molto morbida e fluida, vedete, però è molto ricca, molto corposa. Infatti appunto vi lascia la pelle morbidissima, idratata e però come vedete una volta che andate a massaggiarla si assorbe veramente in fretta. Il profumo è un profumo delicato, misto a gumi, ma allo stesso tempo è un profumo forte, quasi di carruba. Non so se avete presente le carrube e l'odore che hanno. È un po' un mix secondo me, anche se credo che la carruba non sia presente. No, probabilmente è la carota che dà questo odore qua. Comunque è una crema molto molto valida, se non ricordo male appunto l'ho pagata sui 4,99 euro, ora non ricordo di preciso. E mi piace tantissimo. È veramente veramente idratante e lascia la pelle piacevolmente setosa, delicata. Mi piace tantissimo. E appunto in inverno che ho la pelle ancora più secca che in estate, anche se nelle gambe estate-inverno è sempre secca. Ma d'inverno si secca ancora di più, naturalmente per il freddo. La utilizzo veramente con piacere perché mi dà grandi soddisfazioni appunto. Rimango idratata e morbida e velutata perfettamente per due giorni, senza bisogno che appunto la dia di nuovo, la dia tutti i giorni. Ecco, la posso dare ogni due giorni perché è veramente molto molto ricca, molto molto corposa. Mi piace tantissimo questo preparato appunto della Fito Relax. Ho intenzione di questa linea di comprare anche altri prodotti perché mi sto trovando veramente molto bene con questo brand. E poi appunto il fatto che sia un brand italiano ha già un punto in più a suo favore. E niente, per quanto riguarda la confezione sono 250 ml di prodotto che appunto, come vi dicevo, vi dura tantissimo. Perché fate conto che io ormai, quant'è che lo uso? Dunque, più o meno un mesetto e comunque non ho usato tantissima. Tenete conto che io l'alterno anche ad altre creme, come sapete, quindi non sempre utilizzo questa. Ma veramente basta una pusciata per fare tantissime zone del corpo. Io ad esempio una pusciata la uso per entrambe le braccia e due per le gambe perché è veramente talmente corposa, è talmente concentrata come crema che ne basta pochissima veramente. Quindi assolutamente consigliata, consigliata, consigliata. Fatemi sapere se la conoscete, se l'avete già provata e come vi trovate. Altrimenti, se siete curiosi di provarla, fatemi sapere se andrete a sbirciare per acquistarla. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, soprattutto vi sia stato utile per decidere o meno l'acquisto di questa crema. Io vi saluto che scappo a lavoro. Vi ricordo, come al solito, se non siete iscritti o iscritti, di iscrivervi al canale, naturalmente se vi piace il mio canale e se vi fa piacere seguire i miei video. Attivare la campanella e mettere un bel like a questo video per far sì che continui a fare recensioni. E nulla, io vi saluto e vi mando un grosso abbraccio, un grosso bacione e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao!